Ciao a tutti, benvenuti in questo canale video, sono Aci, il mio nome italiano è Angelo, sono uno dei tutto di Squalicommerce, per chi è la prima volta che guarda questo canale video vi voglio spiegare cosa potresti trovare in questo canale. Squalicommerce si occupa di tutti gli aspetti legati al mondo dei business online, in particolare la parte di e-commerce. L'obiettivo è di educare più persone a comprendere e a sviluppare il proprio business online di e-commerce. Per partire bene con e-commerce hai bisogno di fare più processi di ricerca prodotti e di ricerca fornitori. L'obiettivo di una ricerca di prodotti e di fornitori fatta bene è quello di trovare un nuovo mercato da spandere, i due rischio di insuccesso con analisi dettagliate, i due problemi di fornitura, ma non solo questi, ci sono tanti altri ragioni. Se trovate questo canale utile iscrivetevi, accendete il campanellino. Oggi vi voglio condividere la mia ricerca di prodotto combinando le varie funzioni di Helium Tem per trovare nuovi prodotti di sottocategorie meno competitive e più attraente per noi. Vediamo ora di impostare la ricerca su Helium Tem. In questo caso utilizzeremo la funzione di Black Box, cioè quello di Amazon Product Research, su di Helium Tem per trovare prodotti e uniche più ricercati in questo momento. Partiamo subito. Innanzitutto andando sulla scheda Black Box selezioniamo Keywords e impostiamo i valori di ricerca molto alto. Ad esempio nel search volume partiamo da un minimo di 30.000. Questo in sostanza è per andare a trovare una categoria molto ricercata, cioè delle categorie molto ricercate. In sostanza dovete pensare che su Amazon se c'è la domanda, quindi le persone vanno a ricercare il prodotto, quello automaticamente porta del traffico e come sul mercato se ci sono necessità, c'è l'esigenza e voi offrite il vostro prodotto, ovviamente la gente vede il vostro prodotto e valuta insieme con gli altri prodotti e quindi c'è possibilità di vendita. E' per questo che è importante diciamo sempre vedere i volumi di ricerca. In questo caso andiamo a vedere qual è la categoria che oggi ci interessa maggiormente. Ad esempio non mi dispiace analizzare il casco bici della categoria spot e tempo libero FBA Large Oversize. Ok andiamo a vedere un attimo questo casco bici. Guardiamo un attimo l'intera categoria su Amazon, quindi casco bici, vediamo che ci sono parecchi prodotti con le censioni alte tipo 2030, 1130, 825 anche, quindi 1341. Cioè in sostanza casco bici sicuramente è competitivo come parole chiave. Vediamo un attimo però potrebbe essere interessante da capire quanto è competitivo in questo caso. Ok comunque è una categoria con un success code di 36. Guardiamo un attimo se ci sono nuovi prodotti che sono arrivati, quelli nuovi prodotti se stanno vendendo anche, ad esempio questi sono stati creati per ultimi, vediamo ecco qua, ok questi che sono stati creati per ultimi stanno comunque andando quindi dovrebbe essere interessante verificare. Ok ora che abbiamo visto un po' i dati ad esempio anche questo vediamo quello, questo qua, ok vediamo, ok sta vendendo, bene. Allora dopo aver verificati i primi dati, ora andiamo sulla funzione di Keyword Research, ma niente, e andiamo a ricercare la sottognichia meno competitiva attraverso analisi di parole chiave. In questo caso scriviamo casco bici e diamo invio. Ok facciamo la nuova ricerca e guardiamo insieme. Una volta che ci restituisce ma niente questi risultati, dobbiamo pensare a come ridurre numero di competizioni trovando keywords, determinate keywords. In questo caso andiamo a selezionare, mettere un filtro nel campo competing products. Mettiamo ad esempio mille prodotti che competono e vogliamo trovare le parole chiavi che competono con mille prodotti. In questo caso andiamo a ordinare per il volume di ricerca. Ok? Vediamo un attimo. MTB 26 uomo, grave bike uomo, Fox MTB, ok casco MTB Fox, bici grave uomo, casco monopatio elettrico adulti, casco bici bambino due anni, casco bici bambino un anno, tecatron bici elettrica. Ok allora il primo che secondo me il casco MTB Fox possiamo vedere insieme, che comunque ha un volume di ricerca di 3568 e i prodotti che competono con 314. Vediamo insieme se è caso oppure è meglio scegliere un'altra parrocchia. Magari questa categoria qua potrebbe essere che il Fox, come abbiamo visto qua, se c'è Fox MTB in questo caso penso che Fox sia un brand, ok? Bene, allora a quel punto li potrebbe essere, vediamo intanto il casco MTB Fox, quale è il successo, verifichiamo se rispetto a quello che avevamo analizzato è meglio o peggio, 35, siamo sempre lì, ok? Interessante, allora ora però proviamo analizzare quello sotto, casco monopatio elettrico adulti, apriamo, ok, interessante questa sottocategoria, ora andiamo su X-Ray, ok casco monopatio elettrico adulti, vediamo, bene, qua abbiamo un successo di 51, vediamo insieme, allora innanzitutto vediamo come sono andate le ricerche in un anno, è rimasto piuttosto, cioè c'è stato un innalzamento verso da ottobre a novembre dell'anno scorso, poi adesso è rimasto abbastanza costante su 2.000 fino a 3.000 di cieche. Allora, andiamo a vedere un attimo anche ingresso di nuovi prodotti, vediamo, li ordiniamo per la data di creazione, ad esempio, vediamo qua ci sono stati per 2021 3 nuovi prodotti, verifichiamo come stanno andando, le vendite, ok, comunque, a parte uno, le altre due comunque vendono e questa è una cosa buona perché i prodotti nuovi quindi non sono, non c'è una baria di ingresso che potrebbe ostacolare i prodotti nuovi, ad esempio si vede che si riesce a lanciare un nuovo prodotto in questa categoria. Allora, ovviamente quello che c'è da considerare è che sicuramente questa categoria, questa sottocategoria è competitivo, però c'è più opportunità rispetto a categoria questo qua, casco bici che abbiamo visto, perché dovremmo competere veramente con tantissimi prodotti, tipo 30.000 prodotti, invece nel caso di casco monopattino elettrico adotti, competiamo con circa 1.000 prodotti e anche diciamo molto meglio, ovviamente possiamo vedere anche casco bici bambino 2 anni che è un'altra parola chiave interessante, in questo caso parliamo di 1935 ricerche fatte, ok, sempre con X-Ray andiamo a vedere insieme questa categoria, intanto guardiamo un po' di prodotti, ok, sono tutti prodotti colorati e anche fantasiosi, in questo caso ad esempio questa ad esempio casco bici bambino 2 anni non è proprio interessante, perché ha un successo non elevato e soprattutto probabilmente anche vediamo subito ingresso di nuovi prodotti, se ce ne sono o meno, 27 dei due, no, si vede anche le vendite che non è molto interessante, insomma, quindi riconfermando, cioè in questo caso abbiamo trovato casco monopattino elettrico adotti che è interessante all'interno di casco bici, sicuramente andando a analizzare più in dettaglio le diverse keywords che corrispondono a sottocategorie di una categoria più grosso, magari troviamo delle opportunità che a prima vista potrebbe essere niente, perché in questo caso anche noi abbiamo trovato casco bici comunque con un successo 36, però andando più avanti siamo riusciti a trovare proprio un successo più elevato, questo proprio perché andando a trovare sotto categorie meno competitivi e con maggiore successo potrebbe portarci a considerare questi nuovi prodotti da poter lanciare in questi nuovi mercati. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, accendete il campanellino per ricevere l'aggiornamento del prossimo video e se avete domande lasciate tra i commenti e per questo video è tutto. Grazie a tutti!